C'è area nuova perché io non ho nessun imbarazzo a livello personale a dire che sono stati fatti degli errori in passato. Questo è un segnale di apertura, di onestà, di coraggio, di trasparenza, ma soprattutto di umiltà che poi è un segno forte di intelligenza. E al tempo stesso, altro elemento importante perché sono giovane, perché ho ben chiaro come concepire la mia amministrazione. La mia è una scelta personale, mi sono voluto mettere in gioco e sono contento che sul mio nome, sulla mia persona, sul mio essere uomo politico è stata trovata la condivisione massima di questa squadra, della diaspora del centrodestra, della coalizione con l'Udc, che siamo anche in coalizione in regione e alla provincia di Latina. Questo è sicuramente un valore aggiunto come tutte quante le squadre, penso alle squadre di calcio che vincono costantemente. Perché vincono costantemente? Perché in campo ci sono dei giocatori come un team che interagiscono, interagire significa donare a uno, arriva all'altro e questo qua sono i valori aggiunti che hanno le mie sette liste, che mettono al centro il discorso legato alla famiglia, la trasparenza, la legalità, all'aria nuova, al fatto stesso che c'è anche la lista della polverina, dimostrazione di quel legame forte con la regione Lazio. Perché è ben chiaro, e vado in conclusione, è ben chiaro che il Comune di Latina non avendo somma a disposizione soltanto con l'aiuto del governo, della regione e della provincia si possono sostenere i progetti. Grazie Di Giorgi. Allora, Giovanni Di Giorgi, il candidato di centrodestra, per lei le priorità sono quelle di potenziare l'offerta culturale ma anche creare posti di lavoro. Le due cose sono conciliabili e in che modo? Innanzitutto voglio sottolineare che la differenza proprio sta nel fatto della mia persona, che è l'unica persona che poteva riunire il centrodestra, per capacità, trasparenza, ma soprattutto per umiltà. Ognuno vale puro, ognuno vale puro, ognuno vale puro, vale, vale puro.